Sorpresa inaspettata nelle acque del Cilento, un calamaro gigante è stato avvistato nelle acque della comune di Marina di Casalverino nel pomeriggio di ieri. Una sorpresa inaspettata per cittadini e turisti che stavano facendo il bagno. Il calamaro di grosse dimensioni, lungo circa un metro, è stato notato da un cittadino mentre era in acqua. I bagnini dello stabilimento balneare Lido Azzurra si sono precipitati in acqua per portare fuori il mollusco gigante che ha destato molto scalpore tra i presenti per le sue dimensioni. Tanti selfie, video e le foto scattate per un evento insolito che ha attirato l'attenzione di tanti sulla spiaggia.